Sici ragazzi Andate avanti dai che c'ho la telecamera così ti riprendo Vai vai Andate avanti Andate avanti Andate avanti Andate avanti Andate avanti Andiamo Andate avanti 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 Un'altra Sì perché troppo attaccati wow ecco la velocità che ci arrivano bellissima dai ecco la velocità anche lì non è male va bene? va bene vai Marco che ti riprende porto ad andare un po' dritto va bene finito il tour siamo esausti ragazzi siamo esausti tutti bolliti ora facciamo il veleno tutti cotti ma contenti cosa? però ce l'abbiamo fatta esatto oh yeah 50 euro di macchina che ci ha portato su mica fratello che brutta facciata che brutta facciata grazie a tutti